Enrico Bellei, Rachele Trio, Marco Stefani, Romina OM, Luca Fierro, Rufina Spina, Antonio Storti, Rancio Pancio, Biagio Lo Verde, Return to Griff, Mario Minopoli Junior, seconda fila per Rebel Flair Bar con Antonio Di Nardo. L'errore di Return to Griff prima dello stacco, imitato anche da Rachele Trio e lottano per il comando Ricandro MSM, partito lanciato lungo la corda e Romina OM. Il lancio in 14-1 per Ricandro MSM che ha difeso la corda da Romina OM, ma ora si getta di galoppo, si getta di galoppo anche Record Cosmos e quindi restano quattro superstiti che sono Romina OM, Rebel Flair Bar che va a chiedere strada all'avversaria, quindi Rufina Spina e Rancio Pancio con il via libera per Rebel Flair Bar dopo 600 metri in 44-8 dietro Rebel Flair Bar, Romina OM, Rufina Spina e Rancio Pancio cercano l'inseguimento Record Cosmos Nel frattempo metà gara della battistrada in un minuto secco, si viaggia sul piede dell'1.15 con Rebel Flair Bar e Antonio Di Nardo a precedere Romina OM, Rufina Spina, Rancio Pancio, Record Cosmos, Rachele Trio Accelerazione di fronte per un giro in 15-1 Qualche problema per Romina OM, sulla quale cerca di spostare Rufina Spina in anticipo sul Rancio Pancio che è costretto in terza ruota ma insiste, nel frattempo ha acquisito buon vantaggio Rebel Flair Bar e comanda con alcune lunghezze di vantaggio, si getta di galoppo anche Romina OM, Rufina Spina e Rancio Pancio all'inseguimento della lanciata Rebel Flair Bar, poi ancora Record Cosmos ancora netto vantaggio di Rebel Flair Bar su Rufina Spina, Rancio Pancio e Record Cosmos prosegue in avanti in vantaggio Rebel Flair Bar davanti a Rufina Spina e Rancio Pancio sul palo, è netta Rebel Flair Bar con Antonio Di Nardo davanti a Rufina Spina e Rancio Pancio 8-5-6, l'arrivo ufficioso, sul mio cronometro 2 minuti e un decimo, 1-15-1 la media al chilometro per Rebel Flair Bar, figlia di Ganymede, i colori della scuderia stecca l'interpretazione di Antonio Di Nardo rivediamo il finale con Rebel Flair Bar che si mantiene in vantaggio e conclude, netta vincitrice su Rufina Spina numero 5 e Rancio Pancio numero 6 8-5-6, l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle 8-5-6, l'arrivo ufficioso, 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 l'arrivo ufficioso